Un foggia che sta andando alla grande è che ha tanti innamorati, lei è uno di questi, questo amore si può concretizzare quando le nozze? Per il momento no, ci dobbiamo sentire più in là. Ma c'è una strada aperta, un'ipotesi? Probabilmente, ma adesso no. E' una bella realtà comunque il foggia? Senz'altro è una grossa realtà. Lei è appassionato di calcio? Sì, io ho fatto il presidente circa 40 anni fa. Sì, lei comunque ha già avuto un'esperienza ai vertici del suo talizio rosso-nero, di quella esperienza cosa ha lasciato? Ha lasciato tanti ricordi ma anche un po' di dispiacere per il tifo.